L'Aquila non può farsi sfuggire l'occasione di ospitare i mondiali di atletica leggera. Così Gianni Lolli, presidente del comitato organizzatore del 23esimo World Master Championship. Ormai si è alla fase finale della candidatura della città dell'Aquila per i mondiali Master di atletica leggera del 2022. Devo ringraziare enormemente il consigliere Petrucci che ha indetto una riunione urgente con tutte le autorità, compresa il comune, per discutere il da farsi durante questa visita che è estremamente importante per la città dell'Aquila e per il proseguire della decisione finale nella votazione che avverrà a settembre. Con grande difficoltà devo dire, sto portando avanti questo discorso, avrei avuto piacere molto di più di una partecipazione più vive da parte del comune che nella prima fase il sindaco Biondi ha dato la sua disponibilità ma credo che oppresso anche dalle altre problematiche che segue la città non ha potuto mai partecipare in modo diretto alle altre riunioni. La posizione del sindaco sarà focale per Gianni Lolli, molte sono state le difficoltà, dovrà garantire il proprio interesse con i relativi impegni che saranno discussi nelle riunioni oppure costringerà, ha detto Gianni Lolli, ad uno spostamento in un'altra città abruzzese per non perdere un'occasione molto importante che porterebbe un ritorno economico di circa 20 milioni di euro all'economia cittadina. Dovete pensare che la partecipazione di circa 9 mila atleti ad un campionato del mondo, con indotto anche di altre persone che vengono familiari o amici per seguire le gare, per cui basta un po' di intelligenza e un po' di capacità a fare il calcolo, diciamo anche a 70 euro al giorno ognuna di queste persone spendono, è facile sapere quanti soldi vengono per la città. Grazie.